Non si presenta a scuola, sono ore di apprensione per una professoressa di Montefelcino che da ieri ha fatto perdere le tracce, ha attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse. Mal tempo nelle marche, alberi e pali abbattuti dal vento, vigili del fuoco in azione in tutta la regione, allerta meteo anche per domani. Piove in classe alla prima ora, rimandati a casa 38 alunni della primaria del Poderino a Fano. Da domani lezioni nell'aula magna della scuola media Matteo Nuti. La scuola non è agibile perché piove, cade l'intonaco, ci sono aule allagate, è veramente assurdo nel 2021, veramente assurdo. Soldi all'estero, scoperta una maxifrode da 21 milioni di euro, 1500 investitori truffati e 11 indagati anche della provincia di Pesero Rubino. Trasportavano in auto oltre mezzo chilo di cocaina, restate a Fano, due donne napoletane. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai titoli, si sarebbe dovuta presentare a lezione mercoledì nell'istituto fanese dove insegna, ma così non è stato. È scomparsa da ieri Daniela De Matteis, professoressa di 57 anni che abita a Monte Felcino. Pare che sia salita sull'autobus che di solito utilizza per recarsi il lavoro, ma di lei si sono perse le tracce. La prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Intanto i familiari stanno collaborando con le forze dell'ordine. Sono iniziate sia le ricerche ad ampio raggio che la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al momento si pensa ad un allontanamento volontario. Tragedia oggi nel quartiere di Sant'Orso a Fano dove Mirko bevi l'acqua, 67 anni, si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione in via Marcello Malpighi. Per spiegare le motivazioni del gesto estremo, l'uomo ha lasciato un biglietto nel quale parlerebbe di fallimento e che secondo gli investigatori avrebbe iniziato a scrivere ieri per poi concluderlo, oggi prima del suicidio. Sul posto gli agenti del commissariato di Fano, i vigili del fuoco e il 118. E adesso parliamo del maltempo. Le piogge e le forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi in tutta la regione e decine gli interventi dei vigili del fuoco. Scuole chiuse, coccattivati e appelli dei sindaci a spostarsi solo se necessario. L'ondata di maltempo preannunciata dalla protezione civile si è abbattuta oggi sulle Marche provocando numerosi danni e disagi. Già dopo l'allerta arancione emanata nella giornata di ieri, in molti comuni erano stati comunicati l'annullamento del mercato settimanale e la chiusura dei centri diurni per i disabili e delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture dell'infanzia, con l'obiettivo, come aveva spiegato il primo cittadino di Senigallia, di garantire quanto più possibile la sicurezza di tutta la popolazione e prevenire ogni situazione di pericolo. I vigili del fuoco sono stati impegnati su tutto il territorio regionale dalle prime ore di questa mattina. Già a mezzogiorno si contavano più di 40 interventi, di cui la metà nella provincia di Ancona. La fascia costiera, infatti, è stata quella con il maggior numero di richieste. In particolare, nella provincia di Pesero Urbino, i pompieri hanno ricevuto in totale una quarantina di chiamate per sgombrare rami e alberi caduti in strada, mentre a Falconara Marittima hanno rimosso un grosso pannello pericolante dal tetto di un'abitazione. A Senigallia, invece, c'è stato un monitoraggio costante dei livelli del fiume e di tutti i fossi minori, con tanti interventi, soprattutto nelle frazioni per rimuovere il fango dalle strade. Anche a Fanno si sono verificate delle criticità. In via 4 Novembre e lungo via Fossa Sant'Orso, alcuni alberi situati nelle abitazioni private, sono caduti sulle carreggiate ed è stato necessario predisporre i sensi unici alternati. Inoltre, in alcune zone della città, sono stati abbattuti dal vento i pali dell'illuminazione stradale, per fortuna senza conseguenze per le persone. Invece, alla Scuola Elementare di Piazza Unità d'Italia è stato riscontrato un problema di infiltrazione d'acqua, mentre i sottopassi in zona mare, a Lido, a Torrette e a Metauriglia, non hanno registrato significativi livelli di allagamento. Vigili del fuoco in azione anche a Pesaro, dove sono state divelte dal vento diverse piante, come in Viale Trieste e in Viale Venezia. Anche per domani, venerdì 8 ottobre, è stata diramata un'allerta arancione per una parte delle Marche. Secondo il bollettino meteo della protezione civile, sono previste, nella prima parte della giornata, piogge continue diffuse più insistenti sul settore centro-meridionale della regione, fenomeni in esaurimento del pomeriggio. E come avete sentito nel servizio, anche gli edifici scolastici hanno dovuto fare i conti con il maltempo. A Fano, gli studenti di due classi della Scuola Elementare del Poderino, sono stati rimandati a casa. Sembra una roba assurda, visto che già l'anno scorso tenevano dei secchi in classe, perché quando pioveva appunto raccoglievano l'acqua con dei secchi, quindi nel 2021 avere una scuola del genere, dei bambini che non possono fare lezione per la pioggia, voglio dire con tutti i problemi che abbiamo, mi sembra abbastanza assurdo. Piove nelle aule dal soffitto e gli alunni sono stati rimandati a casa. È successo nella scuola primaria al Giardino dei Colori in Piazza Unità d'Italia, al Poderino di Fano. 38 bambini della seconda B e seconda A questa mattina sono entrati nel plesso, ma poco dopo la situazione è degenerata. A causa delle piogge e delle abbondanti infiltrazioni d'acqua, diverse parti dell'intonaco si sono staccate e i pavimenti si sono allagati. Questa mattina alle 8 e mezzo la rappresentante ha comunicato che le maestre stavano telefonando e dovevamo venire a prendere i bambini perché la scuola era inagibile. No, sembra, ci hanno detto che la scuola all'interno era allagata, hanno cercato di asciugare all'interno, ma non ci sono riusciti perché comunque la pioggia è tanta e quindi siamo dovuti venire a prendere i bambini perché non si riusciva a fare lezione. Sembra che da domani parta la DAD perché la scuola per queste due classi non è inagibile e quindi non si può fare lezione. Pericoloso per loro, ma adesso un disagio anche per le famiglie nel caso della DAD. Sì, nel caso della DAD è un grosso disagio perché comunque lavoriamo tutti e quindi è un problema tenere i bambini in DAD. Questo è un problema che l'abbiamo affrontato già l'anno scorso col coronavirus. Però, ripeto, non avendo l'emergenza del coronavirus dobbiamo avere un'emergenza pioggia un po' assurdo ed è per noi genitori molto impegnativo perché lavoriamo tutti, insomma. Lei come è riuscita a organizzarsi questa mattina? Allora, io ero appena arrivata al lavoro quindi ho avuto da Sonia la telefonata che dovevo venire a prendere perché alla maestra non sono riuscita a rispondere. Ho dovuto chiamare i miei suoceri che anche loro al lavoro, ma più vicini, hanno dovuto chiudere e venire a prendere il bambino. Nel caso in cui domani i ragazzi dovessero rimanere a casa? Mi dovrò organizzare io in qualche modo e rimanere a casa perché comunque loro con una certa età non riescono a fargli fare la DAD e stargli dietro come potrei fare io. Lei è la rappresentante per cui ha fatto un po' da spola tra scuola e genitori? Sì, sono la rappresentante della seconda B e quindi stamattina sono poi stata contattata dalla maestra e ho aiutato un po' la maestra nel chiamare tutti i vari genitori dei bambini per poterli venire a recuperare perché l'avviso era che i bambini stavano seduti nel corridoio perché le classi non erano agibili. Inoltre la maestra ci ha anche un po' avvisato che forse da domani c'è rischio DAD e questa cosa lascia sconcertati direi di più perché abbiamo fatto la DAD tanta l'anno scorso a causa di tutta la situazione Covid adesso dover fare la DAD perché la scuola non è agibile perché piove, cade l'intonaco ci sono aule allagate è veramente assurdo nel 2021 veramente assurdo. Avete avuto modo di confrontarvi anche con la preside? Allora stamattina tutto questo è stato un po' un'emergenza io poi l'ho provata a contattare mentre cercavo di chiamare tutti i vari genitori ho contattato anche la preside che però penso ecco per disposizioni Covid ci può ricevere soltanto dopo una mail ho lasciato detto in segreteria perché mi sembrava corretto ecco che avendo anche allertato insomma fanno tv avendo un po' allertato i vari rappresentanti anche delle altre classi avvisarla prima di fare tutto questo movimento purtroppo poi non sono riuscita a parlare con lei direttamente ma con una segretaria E nel corso della mattinata poi la preside per fortuna non ha confermato la didattica a distanza Nessun rischio di didattica a distanza domani tutti gli alunni possono tornare a scuola la rassicurazione arriva direttamente dalla dirigente scolastica Monica Dalmonte che questa mattina ha dovuto gestire le difficoltà legate all'allagamento delle due classi alla scuola elementare del poderino a Fano Non ho ritenuto assolutamente opportuno trattenere i bambini in quelle classi anche perché in quel plesso non ho altre classi libri dove poter trasferire magari un'altra aula e quindi l'unica soluzione è stata questa sono molto dispiaciuta perché immagino di aver recato un disagio alle famiglie però è prevalso la protezione dei bambini e la sicurezza non mi sono sentita di lasciarli così Prima di intraprendere questa azione ha poi precisato la dirigente ho avvisato prontamente l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin Loro mi hanno detto no, certo, comprendiamo la sicurezza è la prima cosa e volevo precisare che questo è un problema vecchio cioè nel senso è già da alcuni anni che segnaliamo questa problematica e non ultimo io già ad agosto il 21 agosto e poi il 20 settembre avevo di nuovo segnalato questa problematica per iscritto agli uffici competenti quindi ai lavori pubblici senza avere nessuna risposta quindi purtroppo ho dovuto tamponare una situazione che era a conoscenza insomma anche del comune Tra i genitori c'era una preoccupazione per un'eventuale didattica a distanza sarà così? No, assolutamente perché proprio poco fa sono intervenuti i tecnici del comune che hanno diciamo così rimosso il problema che c'era sul tetto e quindi da domani le lezioni riprenderanno regolarmente E dopo questa intervista l'assessore lavori pubblici Fabiola Tonelli ci ha fatto sapere che nei prossimi giorni per precauzioni i tecnici eseguiranno altri sopralluoghi e accertamenti quindi bambini delle due aule interessate dalle infiltrazioni verranno spostati nel plesso della scuola media Matteo Nuti la preside poi nel pomeriggio ci ha detto che gli alunni verranno ospitati al piano terra nell'ex aula magna che è stata ristrutturata di recente e che grazie all'amodernamento può essere suddivisa al suo interno con dei pannelli fonoassorbenti in modo da formare le due classi provvisori e adesso all'aggiornamento sul covid sono 70 i positivi al coronavirus riscontrati nel percorso nuove diagnosi in 24 ore nelle Marche la provincia più colpita è quella di Pesero Urbino con 21 casi seguita da quella di Ancona con 20 negli ospedali della regione i ricoveri sono 51 meno 4 rispetto a ieri resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre cala leggermente quello dei degenti in semi-intensiva nell'ultima giornata non si sono verificati decessi legati al covid ancora cronaca trasportavano mezzo chilo di cocaina a bordo della propria auto due donne sono state arrestate dalla guardia di finanza al casello autostradale di Fano in particolari nel servizio di Retizia Marchionni sono state tratte in arresto dal nucleo di polizia economico finanziaria di Pesero le due donne che trasportavano oltre mezzo chilo di cocaina sulla propria auto all'uscita del casello l'auto stradale di Fano i militari hanno notato e fermato l'autovettura con a bordo due donne una 36enne ed una 32enne entrambe di origini di campane che procedevano a velocità sostenuta nonostante i limiti previsti dal controllo effettuato è emerso che la donna alla guida aveva precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti è stata quindi fatta una perquisizione del veicolo con l'ausilio dell'unità cinofila e dal termine del controllo il cane Alex ha segnalato che l'autovettura era inquinata in diversi punti e anche le persone a bordo risultavano essere state contaminate da contatto con sostanza stupefacente durante l'ispezione effettuata dai militari le due donne hanno tentato di disfarsi di un panetto di cellofan contenente oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente poi risultata essere cocaina gettandolo gettandolo dietro una recinzione la droga e l'auto utilizzata sono state sottoposte a sequestro e le donne sono state condotte presso la casa circondariale di Pesaro un affare vantaggioso che in realtà nascondeva una trappola è quello che hanno proposto 11 persone oggi indagate a circa 1500 investitori in tutta Italia a scoprire il raggiro è stata la guardia di finanza di Milano che ha sequestrato oltre 21 milioni di euro agli indagati residenti in Svizzera e in Italia in Lombardia a Roma e in provincia di Pesaro e Urbino gli indagati avevano indotto gli investitori a impiegare le proprie risorse finanziarie direttamente oppure attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative emesse da compagnie estere in fondi gestiti da società di investimento a capitale variabile e maltesi che si sono rivelati nel tempo privi di liquidità le indagini hanno evidenziato che la società a quei soldi non li ha mai investiti nei fondi immobiliari costituiti alle isole Bermuda e nell'Intestine ma è stata smantellata con i soldi delle vittime dirottati nei conti dei soggetti collocatori delle polizze assicurative artefici della frode tamponamento tra tre auto questa mattina intorno alle nove lungo via Flaminia Lucrezia di Cartoceto sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto un conducente dalle lamiere la polizia locale e i carabinieri per i rilievi di legge ma c'era anche il 118 che ha trasportato i feriti in codice giallo al pronto soccorso di Fano cambiamo argomento si chiama Virtuale è Reale ed è il libro del professor Giovanni Grandi che mira a promuovere una comunicazione non violenta su web durante la presentazione del libro il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato il manifesto della comunicazione non ostile la parola un mezzo che può commuovere unire e collegare ma può diventare anche un'arma che offende ferisce e allontana per questo è importante fare attenzione a ciò che diciamo e scriviamo specie in rete e sui social network è il tema del libro presentato ieri presso la chiesa di Santa Maria del Gonfalone a Fano per l'appuntamento conclusivo dell'edizione 2021 dedicata proprio alla parola del paese dei balocchi questa è la serata conclusiva di questa edizione smart edition del paese dei balocchi 2021 è un'edizione particolare perché non abbiamo potuto per il covid organizzare la solita manifestazione insomma quello per cui ormai siamo riconosciuti però anche questa edizione che è stata suddivisa in vari appuntamenti ha avuto un bel successo e siamo molto contenti dal titolo virtuale e reale è scritto da Giovanni Grandi professore associato di filosofia morale all'università degli studi di Trieste il libro presentato assieme all'associazione parole ostili vuole promuovere una comunicazione non ostile online diffondendo l'attitudine positiva a scegliere e pesare le parole con cura il libro riprende il manifesto della comunicazione non ostile che propone una decina di principi dieci esattamente per imparare a comunicare online soprattutto ma anche nelle relazioni ordinarie tra le persone i leoni da tastiera sono un fenomeno che abita dentro ciascuno di noi ci basta arrabbiarci un po' ci basta pensare di poter scaricare le tensioni che tante volte accumuliamo sul lavoro o in altri contesti dentro un social media pensando che non succede nulla in realtà è virtuale e reale le piazze digitali sono analoghe alle piazze reali quindi anche lì si colpiscono le persone e si infrangono le relazioni quindi in questo senso scoprire che un piccolo leone o un leoncino sta dentro ciascuno di noi è importante per non pensare che sono gli altri quelli che sbagliano ma per cominciare a pensare che tutti noi possiamo modificare almeno un po' il nostro modo di comunicare diventando forse più simbili ai nostri gatti domestici un po' più affettuosi più capaci di coccolare e meno aggressivi lavorare su un concetto di non ostilità delle parole serve in qualche modo ad educarci al digitale tutti assieme e rendere questo tipo di ambiente un ambiente che riesce a mettere in relazione le persone trovando come dire gli elementi principali che fanno grande il fatto di stare in rete fra di noi e diminuendo ed abbassando il livello invece di inquinamento che gli ultimi anni hanno prodotto molto importante questa sinergia che ogni anno si ripete tra la città di Fano e il feste del giornalismo culturale quest'anno parliamo della parola della lingua italiana della difesa della lingua italiana parlare di parole stile penso che sia fondamentale al termine dell'incontro il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato il manifesto della comunicazione non ostile la comunicazione è molto delicata e questa occasione è un momento di riflessione proprio su come va comunicata nel rispetto delle persone dei contesti e anche l'occasione per firmare il manifesto contro la comunicazione ostile noi come città aderiamo insieme a tanti altri sindaci italiani che hanno diritto a questo manifesto che è un impegno una volontà ma è anche un messaggio tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla presentazione del libro Arts in Genium eccellenze ed emozioni scritto dal giornalista Maurizio Socci l'iniziativa rientra nell'ambito della settimana dell'artigianato organizzata da Confartigianato Imprese di Ancone Peser Urbino e conduce Maria Elena Del Bianco invece quello che vedete tra poco in sovraimpressione è il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni 338-4968-250 grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e arrivederci a domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti